Eppure Aldu, com'è strano se tu prevedi la chiesa? Perché? Io mi sto accennando la chiesa, mi sono chiuso a confessare, no? Mi aspettavo che chi riceve? Dio aveva Maria, tre padri nostri Invece si dice, no, no, no una volta che fate peccato dovete fare opera di bene pigliate 50 euro e le date alla prima persona che incontrate E questo è un giro, a me 50 euro Ah, non è fesso, cane mio no, non deve essere una persona conosciuta se no invece di perdere la cazza ci ha regalato il figlio alla moglie deve essere una persona estranea tu pigli 50 euro e ce le darà Qui c'è stata una prostituta, la conosci Ah, signore, io non la so, tu la sai e che non sai che è una prostituta? Eh, è vero, che ti ha una vita Ah, sì, sì, una prostituta Non c'è la questa, io vedi sei più Eh, 50 euro Signore, buonasera Signore, qua stanno 50 euro Bello, ma non vai che ha 50 euro e cambierà 100 euro No, 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 signora, 50 euro me l'ha detto proprio il prete, 50 euro E' il tuo prete Il tuo prete venne tutte le giorni E' cliente E' il tuo prete venne No, 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 no No, 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 no